è stato inaugurato a fuori grotta napoli il più grande eco murales del sud un'opera in grado di assorbire ogni giorno lo smog grazie all'utilizzo di ecopitture una tecnologia brevettata capace di eliminare l'inquinamento atmosferico si intitola unlock the change ed è il più grande eco murales anti smog del sud italia è stato inaugurato a napoli il 25 marzo 370 metri quadrati curati dalla no profit urban 2030 e dalla b corp con il supporto di palo mart che portano la firma dell'artista zaduno questo eco murales ogni giorno assorbirà lo smog prodotto da 79 veicoli grazie all'utilizzo di ecopitture air light una tecnologia brevettata capace di eliminare l'inquinamento atmosferico oggi siamo felici di supportare nella sua campagna unlock the change una realtà virtuosa come quella delle b corp ha dichiarato veronica de angelis presidente founder di urban 2030 il luogo scelto per la realizzazione di quest'opera non è un luogo come un altro come sottolinea l'artista z1 si tratta di fuori grotta un quartiere difficile che ha vissuto in prima linea i danni dell'inquinamento industriale nel ventesimo secolo a fornire la tela su cui è stata realizzata l'opera la scuola secondaria di primo grado silio italico quest'opera non nasce in un luogo qualsiasi prosegue de angelis la scelta di una scuola è fondamentale per lanciare un messaggio di cambiamento ai giovani e per trasmettere i valori dell'agenda 2030 ai cittadini del futuro la scuola media silio italico insieme al suo dirigente non solo hanno messo a disposizione il muro su cui è stato realizzato l'eco murales ma hanno anche collaborato attivamente professori e studenti infatti sono stati coinvolti in laboratori creativi che hanno dato vita alle lampadine del cambiamento stimolando così una riflessione collettiva intorno al tema di unlock the change